Buongiorno a tutti voi, io sono il Ministro Stefano Nicoletti, sono il Vice Direttore Centrale della Direzione Generale del Sistema Paese e anche il Capo dell'Ufficio che si occupa di internazionalizzazione del sistema economico italiano. Il webinar che ci accingiamo ad iniziare è il terzo di una serie formativa, formazione indiretta, che ha toccato anche altre tematiche come le barriere commerciali, la protezione della proprietà intellettuale. Oggi invece, come sapete, affrontiamo il tema delle gare internazionali e del posizionamento delle imprese italiane in questo settore che è particolarmente importante perché Cuba ha più di 100 miliardi di euro l'anno di opportunità per le imprese. È un webinar che si inserisce all'interno di un più vasto ciclo di webinar portati avanti dal MAICI con l'Agenzia PICE, che hanno visto anche dei webinar su singoli paesi con la partecipazione delle nostre ambasciate e anche altri cicli settoriali e tematici di webinar. Io vorrei innanzitutto presentare i nostri relatori, a cominciare dal sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Onorevole Maglio Di Stefano, che ringrazio per la sua partecipazione. Ci sarà il direttore dell'Agenzia ICE, Roberto Luongo. Una relazione la farò anch'io. Ci sarà il dottor Tindaro Paganini, che è un dirigente dell'Agenzia ICE, nell'ambito dei servizi formativi ed anche esperto del settore dei finanziamenti internazionali. Ci sarà il dottor Roberto Carpano, che è un esperto del settore delle gare e finanziamenti internazionali e docente presso il College of Europe ed anche nella facoltà dell'Agenzia dell'Agenzia ICE e nella Venice International University. E poi, come testimonianza aziendale, abbiamo la presenza dell'ingegner Laezza, che è Managing Director e Founding Partner di IRIS Ingegneria. Io chiedo a tutti i relatori il rispetto dei tempi che ci siamo dati per consentire anche una sessione interattiva di Q&A. Chiedo a tutti di chiudere il microfono alla fine degli interventi. A tutti i nostri partecipanti dico e confermo che vorremmo che il seminario fosse più interattivo possibile, quindi avete la possibilità, attraverso la funzione chat, di formulare le vostre domande. Cercheremo poi di raccoglierle e di dare la risposta al maggior numero di esse. Siccome però non riusciremo magari a toccare tutti i temi che sollevate, vi suggeriamo di inserire sempre il vostro indirizzo mail nella formulazione della domanda, così che poi i vari uffici e i vari relatori possano intervenire successivamente e darvi una risposta. Parto allora senza ulteriore indugno, dando la parola all'On. Maglio Di Stefano. Prego. Buongiorno a tutti, grazie Ministro Nicoletti. Un piacere per me essere qui oggi a questo webinar che come hai citato è uno in ciclo di webinar che abbiamo avviato in piena fase Covid ancora in realtà, che ne ha visti già 17 geografici sui mercati di gestione dell'export, abbiamo avuto il piacere di aprire tutti e poi ora in media siamo passati anche a un altro ciclo di webinar che è più invece trasversale. Abbiamo già fatto sul futuro delle fiere, sulla grande distribuzione organizzata, in particolare Francia e Germania e anche sulle barriere non tariffarie e sulla proprietà, sulla protezione della proprietà intellettuale. L'obiettivo è quindi di estendere la consapevolezza di questi temi ai nostri aziende. Oggi parliamo di un tema di grande interesse e di grande utilità che è quello delle gare da fatto internazionali e delle modalità, appunto, è una delle modalità per internazionalizzarsi e sono sicuramente degli strumenti promettenti e sui quali dobbiamo avere contezze di regole chiare e stabili nel tempo e che richiedono certamente una specializzazione per poter addentrarsi in questo campo e quindi una fase formativa che definirei costante per le nostre aziende per poter partecipare al meglio. Molto spesso, troppo spesso, perdiamo occasioni di mercati importanti per via della mancata consapevolezza di come partecipare al meglio a queste gare. Per questo la Farnesina ha messo a punto alcuni strumenti e tra questi uno dei più importanti che abbiamo messo a punto proprio come strumento di supporto all'internazionalizzazione è dentro l'ambito appunto dei sistemi informativi diretti proprio al settore delle gare da fatto e si chiama Extender, che è un portale che permette appunto di avere anticipazioni, quindi i cosiddetti early warning sui grandi progetti. L'obiettivo della piattaforma è quello di fornire un'informazione puntuale sulle opportunità di business favorendone così una più facile opportunità di successo per le aziende e quindi la giudicazione del progetto stesso. Con questa consapevolezza è stato ideato il sistema che è trovato appunto a sito Extender.Esteri.it dove ogni impresa può reperire gratuitamente informazioni sulle gare da fatto in corso e su quelle in programma che vengono segnate praticamente quotidianamente nella rete di programma di Consolare e quindi ambasciate, consolati e istituti dell'agenzia ICE nel mondo. Il valore aggiunto di questo progetto è quello di poter contare su una rete molto ampia di strutture in grado di fare scouting delle informazioni, oltre che chiaramente avere a disposizione un servizio di alert via mail mirato su settori del mercato di interesse. Non va sottovalutato che la rete di contatti stessa delle ambasciate a volte riesce a farci avere degli early warnings anche ancora in fase di creazione dell'offerta. Nell'ultimo anno la piattaforma ha veicolato circa 7.500 informazioni di cui 7.069 gare e 399 anticipazioni di gare e grandi progetti, cosiddetti early warning appunto. Circa 26.000 destinatari anni su fruito. È un risultato importante che è frutto chiaramente del lavoro dei nostri uffici e speriamo che cresca questo numero sempre di più perché significa che tante aziende ne hanno approfittato per essere consapevoli di quello che succede nel mondo e di come poter prendere da noi i vantaggi. In gara con noi Tenderlab è un altro progetto, un altro strumento importante e infatti dove sostanzialmente le gare d'appalto internazionali che costituiscono dei cani privilegiati per il distance loss del PMI vengono formate anche grazie appunto a questo strumento ed è uno strumento che permette appunto di avere un vantaggio competitivo spesso e volentieri. Vediamo che la partecipazione italiana delle gare d'appalto è ancora sottodimensionata, rispetto alle capacità che abbiamo e che in linea di principio potremmo raggiungere sul tema della competizione internazionale di più molto più importante. Quindi riteniamo che questo si debba in buona parte a un gap di conoscenza e di formazione specifica. proprio questa consapevolezza è alla base del progetto in gara con noi Tenderlab che è stato promosso e finanziato e realizzato già dal MAECI a partire dal 2018 grazie al supporto progettuale e operativo dell'agenzia ICE. Il progetto che appunto in gara con noi Tenderlab ha messo a disposizione delle piccole imprese italiane un percorso di formazione e informazione accompagnamento integrato sulle gare d'appalto internazionali per i servizi, le forniture e i lavori. Vediamo che è proprio un laboratorio aperto per acquisire know-how, strategie per approcciare il mercato dei Tenders e familiarizzare anche con le procedure e le regole di procurement delle istituzioni finanziarie internazionali. Questo è un aspetto che molto spesso ho visto mancare e c'è la consapevolezza anche di quando si impagna tutto l'asset per il procurement per gli istituti internazionali. L'approccio innovativo di Tenderlab è stato quello di offrire alle imprese un percorso completo di formazione e informazione sulle gare d'appalto erogato direttamente sul territorio e articolato in tre fasi. La formazione in aula sui Tender, il workshop sulle opportunità di gara e la consulenza personalizzata. Oltre 100 aziende hanno beneficiato di questa opportunità e chiaramente l'obiettivo, visto il successo delle edizioni precedenti, è stato quello di rinnovare la progettualità di Tenderlab integrandola e potenziandola con nuovi sviluppi con l'obiettivo di creare un vero e proprio modello replicabile nel tempo che possa raggiungere una platea sempre più ampia di aziende. Tra gli sviluppi a cui stiamo pensando per arricchire il progetto c'è anche un servizio di advisory a disposizione delle aziende che sarà attivabile direttamente attraverso la piattaforma Tender. Quindi un maggiore contatto diretto che permette chiaramente alle aziende di essere seguite lungo il percorso per crescere la propria consapevolezza in questo senso. Queste sono le tematiche che saranno trattate nel dettaglio dei relatori oggi, quindi maggiori informazioni che avrete nel proseguo di questo webinar. Per quanto mi riguarda invece cerchiamo di darvi un breve quadro di insieme alla strategia italiana che nasce ben prima della crisi e che infatti nasce dal settembre scorso quando abbiamo voluto dare il primo tassello di una innovativa visione del commercio estero portando col DL 104 le competenze legate all'internazionalizzazione dal Ministero del Sviluppo Economico alla Farnesina, operazione che è diventata operativa dal primo di gennaio. Con queste dotazioni quindi durante la crisi abbiamo potuto lavorare in maniera anticipica a rilancio, fino ad arrivare alla firma da parte del Ministro Di Maio con le maggiori associazioni di categoria del patto per l'export l'8 di giugno. Il patto stesso è frutto dell'ascolto come quello che avverrà oggi durante la fase di Q&A e della condivisione delle associazioni di categoria e delle considerazioni. Ho personalmente presieduto infatti 12 tavoli settoriali per un totale di 8 o 30 ore di interazione raccogliendo così feedback fondamentali che abbiamo inserito nella strategia stessa. Ci siamo focalizzati sul rafforzamento della penetrazione del Medivitali nei vari mercati e nell'internazionalizzazione del sistema economico produttivo italiano. Questo dal momento che le nostre esportazioni concorrono per circa il 30% del PIB nazionale quindi abbiamo ritenuto che migliorare proprio la classe delle esportazioni fosse fondamentale per la ripresa. Pensate che avevano chiuso il 2019 con 478 miliardi di esportazione, secondo posto soltanto dopo la Germania in Europa e puntavano a superare la quota di 500 miliardi. Chiaramente abbiamo dovuto ridimensionare questa stima per via del Covid però abbiamo questo chiaro obiettivo anche nella strategia. L'obiettivo è non solo aumentare il valore assoluto aumentando i mercati di destinazione ma anche e soprattutto aumentare la platea di imprese che stabilmente concorrono ad aumentare e concorrono alle esportazioni del nostro paese. Quindi il valore assoluto ma anche la platea che lo compongono perché riteniamo che l'export sia il pilastro su cui spesso ci si aggrappa per mantenersi durante le crisi di domanda interna. Il patto per l'export si compone di sei pilastri, comunicazione, formazione e informazione, e-commerce, sistema turistico, promozione integrata e finanza agevolata. Per quanto riguarda la comunicazione abbiamo lanciato una campagna, una consultazione di mercato europea per lanciare appunto una campagna di comunicazione sul rilancio del Nation Bread che verterà sul racconto innovativo del nostro paese che va al di là delle treste e che punti anche all'innovazione, al mondo della ricerca e lo sviluppo, alla scienza e sarà targettizzato su 26 paesi che abbiamo identificato con i maggiori sbocchi possibili. Questa campagna chiaramente aiuterà principalmente i settori maggiormente colpiti dal Covid ma sarà una campagna di ampio spettro proprio per ridare slancio al nostro paese nell'immaginare la notte internazionale. Chiaramente la campagna prevede la creazione della campagna valoriale madre che poi sarà derivata per settore o per paese in altre campagne che abbiano chiaramente una texture diciamo omogenea per il prodotto finale. Ci focalizziamo come dicevo sulle caratteristiche più famose del nostro paese cercando di derivarne anche una campagna orizzontale su tutto ciò che va dal turismo alle start-up innovative. La campagna l'ha trovata ancora pubblicata sul sito appaltinnovativi.com.it slash made in Italy dove trovate tutte le informazioni. Per quanto riguarda la formazione e l'informazione il webinar di oggi è uno di questi tasselli. Considerate che se c'è un lascito positivo del Covid è la consapevolezza che il paese abbia bisogno di una spinta forte sulla digitalizzazione e sui percorsi formativi online. Abbiamo come dicevo all'inizio svolto già una trentina di webinar in particolare quelli sui mercati di destinazione hanno avuto la partecipazione in 16 incontri di circa 20.000 aziende. Numeri che non sarebbero possibili da vivo. Io ho fatto personalmente un tour per spiegare gli strumenti un anno e mezzo fa e non abbiamo mai avuto questi numeri. Vuol dire che lo strumento è valido e dobbiamo coltivarlo. Chiaramente lavoriamo anche per estendere questi webinar alle richieste che ci vengono direttamente dal mondo delle imprese e i webinar orizzontali come quello di oggi e sono proprio uno di questi. L'altro grande pilastro che stiamo cercando di portare avanti è quello della formazione continua. Quindi abbiamo ideato uno strumento che è un ebook che si chiama La Guida per Partire che ha proprio la volontà di rispondere alla domanda della piccola piccolissima impresa su come internazionalizzarsi. Quindi non diamo semplicemente una pletola di strumenti ma partiamo dalla domanda cosa posso fare per arrivare a come farlo e affianchiamo a questo anche una revisione dello strumento del Temporary Export Manager che diventa adesso Digital Export Manager. Quindi un manager esperto di export ma con competenze digitali che permette appunto di muoversi sullo spazio del digitale che è quello che in questi mesi soprattutto di Covid è andato per la maggiore nell'ambito del trade internazionale. Abbiamo anche affiancato al progetto di ebook il progetto finale più importante in realtà che è la creazione del sito export.gov.it che sarà un portale unico per l'internazionalizzazione che integrerà sistemi di intelligenza artificiale data big data è chiaramente tutto ciò che permette anche di customizzare l'esperienza dell'utente grazie appunto all'utilizzo del big data. Questo non è in divenire è presente nel senso che lanceremo la prima release a fine luglio e l'ultima intorno a dicembre quindi il progetto è già quasi operativo e sarà un progetto di grande di grande respiro. Puntiamo poi massicciamente sull'e-commerce sugli accordi di vasta scala e Icce sta rilanciando gli accordi che avevamo già con Amazon, Alibaba, Rakuten ma vogliamo espanderci ad alcuni dei 450 marketplaces che ci sono nel mondo entrando in un early stage potendo quindi contrattare condizioni migliori oltre al lavoro che si chiama come sulla grande distribuzione organizzata che è un po' il bonus nel nostro paese con nuovi accordi. Sul sistema fieristico abbiamo voluto contribuire già con i ristori intanto alle mancate partecipazioni delle fiere primaverili ma soprattutto andremo a lanciare una piattaforma di B2B che possa estendere le fiere fisiche al virtuale per la fata appunto di B2B e inoltre sosterremo le minifiere autunnali di settore per chi vorrà riprogrammare quelle perse ma soprattutto Icce ha mandato di aumentare la dotazione a sostegno degli incoming di buyers e anche gli influencer che possano raccontare anche l'Italia al di là della fiera stessa ma con l'occasione della fiera. Altra cosa importante stiamo coordinando un tavolo con Germania e Francia per evitare sovrapposizioni nella programmazione teistica del nuovo anno. Andando invece sulla promozione integrata abbiamo stanziato i movi fondi raddoppiandoli di fatto per la promozione e appunto per quegli eventi che conoscete nel mondo come la settimana della cucina italiana o la giornata del design dove si fa appunto promozione integrale al sistema paese attraverso la nostra rete diplomatico consolare e cosa che vi poi racconteremo nel dettaglio più avanti e andremo anche a rimotellare proprio gli appuntamenti di promozione. Il cuore pulsante della riforma è quello sulla finanza agevolata tramite la riforma e la norma 39481 di Sinest portiamo a 900 milioni a sua dotazione di cui 300 a fondo perduto e con la possibilità da parte delle aziende di richiedere l'accesso al finanziamento con un 50% a fondo perduto fino a 800 mila euro senza garanzie e questo chiaramente permetterà alle aziende anche più piccole cosa chiedere il fondo non solo abbiamo aumentato anche la possibilità di ottenere il fondo per altri aspetti dell'impresa quindi la patrimonializzazione, la partecipazione a fiere o ad esempio gli studi di fattibilità e anche ad esempio la creazione di magazzini militari destinati all'export non solo abbiamo esteso anche l'utilizzo del fondo al mercato intra web parliamo di un piano complessivo di aiuti di 1,4 miliardi di euro per l'export che è una città importante e oltre a tutto questo vi ricordo che sono disponibili anche i 200 miliardi di euro di garanzie statali per le imprese italiane archivabili attraverso Sace i fondi invece di Simes di cui vi parlavo sono destinati per il 70% alle piccole e medie imprese e questa è una cosa importante perché andava fatta qualcosa per aiutare le piccole a internazionalizzarsi tanto abbiamo fatto, certamente non è abbastanza, è il motivo per il quale il patto per l'export l'abbiamo dovuto definire un patto aperto in evoluzione costante perché avranno bisogno di monitorare l'andamento poi dell'attuazione di questo piano e i feedback che avvengono da parte delle aziende per poi poterla adattare agli scenari futuri io credo che però questo modello che abbiamo instaurato di relazione costante, di dialogo possa portare i suoi frutti anche nel futuro e quindi confido anche che questo webinar di oggi non ci sia altre informazioni utili per interampliare il patto sono certo che grazie all'appoggio che trovate alla direzione generale di sistema paese oltre che il mio personale sapete che il mio ufficio è aperto nel pronuncio del termine riuscire ad affrontare questa crisi arrivando a buoni risultati, ottimi risultati nel breve periodo proprio oggi Istat dimostrava come nonostante un sostanziale crollo dell'export durante il lockdown ed era ovviamente fisiologico, già nel primo mese di riapertura i dati siano positivi e siano in doppia cifra quindi io credo che si possa fare un gran lavoro insieme io sono a disposizione, vi ringrazio tutti e confido nel metodo di lavoro che abbiamo avviato di interazione costante buon lavoro con questo webinar e grazie a tutti gli organizzatori Grazie sottosegretario per un intervento che è stato a tutto tondo e che ci ha parlato non solo degli strumenti della farnesina ma anche di tutti i pilastri in cui si compone il patto per l'export io vorrei dare una comunicazione di servizio perché dalla regia mi hanno avvisato che in qualche caso sono state segnalate delle difficoltà per inserire delle domande nella chat se sperimentate queste difficoltà potete anche mandarle via mail all'indirizzo webinar.formazione.ice.it ripeto webinar.formazione.ice.it bene adesso passiamo al successivo relatore visto che non vedo collegato ancora al direttore del lice luongo prenderei direttamente la parola e passerei al mio intervento che tra l'altro si lega molto bene alle cose che ha detto appena adesso il sottosegretario perché vorrei anch'io fermarvi e farvi vedere alcune slides così che possiate eh diciamo percepire anche l'aspetto di vari portali che il sottosegretario ha citato guidarvi anche verso i link che eh eh sono disponibili per andare su questi portali i due portali che vi vorremmo presentare le due iniziative che vi vorremmo presentare sono da un lato il portale extender che è il portale che abbiamo sulle gare internazionali da vari anni e che alimentiamo con la nostra rete di ambasciate ed anche di uffici del lice e poi anche alcuni risultati dell'iniziativa in gara con noi che contiamo di riprendere a breve per poterne avere una fase 2.0. Per quanto concerne il portale extender vedete lì il logo è un portale in cui ci si può iscrivere in maniera completamente eh gratuita all'atto dell'iscrizione è possibile diciamo profilare le esigenze della propria eh azienda e quindi gli settori di specializzazione in modo tale che il sistema possa eh autonomamente senza che voi abbiate bisogno diciamo di collegarvi giornalmente inviarvi attraverso un sistema push eh delle mail all'indirizzo che indicherete eh con l'indicazione delle nuove gare che vengono caricate sul portale che afferiscono a dei settori che sono i settori eh di vostro interesse oltre alle pagine con l'indicazione dei bandi di gara il portale contiene anche i cosiddetti early warnings cioè le informazioni anticipatorie che sono eh informazioni di tipo qualitativo molto importanti che noi recepiamo attraverso la nostra rete attraverso gli uffici del lice su iniziative che ancora non si sono concretate in un bando ma che sono nella pipeline o sono riflessioni sulle quali un certo governo eh sta eh facendo per eh intervenire poi con un certo progetto infrastrutturale con un certo leodotto con una certa linea eh metropolitana eh con un certo progetto ferroviario con un impianto a casso o qualunque sia eh diciamo l'oggetto poi che si materializzerà in una gara e quindi in una possibile commessa il fatto di poter conoscere eh anticipatamente che ci sono queste eh 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 riflessioni in corso consente all'azienda interessata di potersi già preparare preposizionare monitorare eh quel certo mercato trovare eventualmente delle altre aziende eh partner con cui presentarsi alla gara che successivamente eh uscirà. Oltre eh alla possibilità di ricevere queste mail push vi vorrevo eh segnalare alcuni numeri tanto per darvi l'idea dell'operatività del portale. Nel duemiladiciannove, l'ultimo anno concluso sono state veicolate attraverso questo portale settemila e sessantanove eh gare bandi di gara circa quattrocento anticipazione di gare a eh un complesso di destinatari di circa ventisemila destinatari. Vedete lì anche eh l'indirizzo web al quale raggiungere il portale e quindi eh io vi invito a eh iscrivervi in modo tale da poter essere costantemente informati. Inoltre questo portale lo cercheremo di arricchire anche con dei materiali di tipo formativo eh materiali che abbiamo raccolto nel corso della seconda iniziativa della quale vi vado adesso a parlare che è il eh progetto in gara con noi Tender Lab che abbiamo portato avanti nel corso del duemiladiciotto assieme al Lice e che eh eh consisteva in un percorso di accompagnamento che abbiamo condotto in molte città italiane eh che si componeva di tre tappo, di tre fasi. Una prima tappa era quella proprio formativa in senso stretto con una eh facolti eh coordinata dal professor Carpano che ci parlerà successivamente e che in due giorni cercava in un laboratorio tematico di dare le principali informazioni su come si partecipa a una gara internazionale, dove si reperiscono le informazioni su una gara internazionale, come si redige una domanda che eh possa aspirare ad essere una domanda eh di successo, come eh ci si unisce anche ad altri soggetti imprenditoriali per affrontare un bando di gara, come si impara dai propri errori, molto importante questo perché eh una parte della eh della formazione è stata dedicata anche al vedere quali sono i meccanismi di feedback che le banche di sviluppo o altri eh grossi eh fornitori di eh occasioni di di gara internazionale hanno al loro interno per segnalare alle imprese che non vincono eh anche eh le ragioni per le quali eh non hanno avuto successo e da quelle ragioni anche dal dialogo che si può instaurare con i settori di procurement di queste strutture si può diciamo fare tesoro dai propri errori e eh ritornare alla carica in occasioni successive come ci hanno raccontato alcune imprese che abbiamo potuto eh eh intervistare nel corso di queste sessioni formative che magari alla prima volta o anche alla seconda non ce l'hanno fatta ma poi imparando hanno eh eh raggiunto la via del successo e sono anche come poi ci racconterà in nel suo intervento eh eh il eh rappresentante di Aires Ingegneria una volta trovata questa strada poi si eh può essere richiamati o si possono vincere ulteriori occasioni di gara con lo stesso committente. Una seconda fase era invece dedicata all'illustrazione di come funzionano e il procurement di alcune grandi eh banche di sviluppo a cominciare dalla banca mondiale abbiamo passato in rassegna i programmi dell'Unione Europea i programmi eh e eh il procurement delle varie agenzie eh delle Nazioni Unite e abbiamo anche considerato alcune eh grandi eh eventi eh come eh l'Expo eh di Dubai che è stata eh adesso posticipata all'anno successivo ma si sarebbe dovuta volgere quest'anno o eh la Coppa del Mondo di calcio in Catarra perché anche queste grandi occasioni diciamo di eh eh procurement rientrano di nello stesso percorso formativo. Alle aziende che ci hanno seguito nel corso del percorso formativo abbiamo potuto offrire ovviamente a un numero limitato di esse le più promettenti anche una fase di coaching con dieci ore di consulenza sulle strategie di gara per preparare dei documenti di gara per strutturare la propria azienda eh in maniera tale da avere eh delle espertise all'interno che monitorano costantemente il mercato delle gare che possono poi nel momento in cui trovano un bando di interesse attivare eh diciamo le altre strutture eh della della propria impresa per partecipare al bando. Complessivamente è un programma che ha visto circa mille aziende eh che ne hanno eh beneficiato con eh circa quattrocento incontri di B2B anche durante il percorso. Nell'attesa di poterlo ricominciare anche fisicamente perché ci sono state delle regioni e delle delle città che ci hanno già domandato essendo state diciamo escluse da questa prima fase di poter andare da loro e avere delle sessioni anche da loro ci sono però due eh eh portati della eh prima edizione che sono rimasti eh eh tuttora fruibili. Uno è il portale di autoformazione che trovate sul web a www.ingaraconnoi.it dove noi abbiamo preso le registrazioni delle varie sessioni eh di natura formativa ed informativa, le abbiamo tagliate in pillole di una decina di minuti in modo tale da renderne la fruizione eh visiva eh in qualsiasi ora del giorno più fruibile e le abbiamo rimontate secondo dei percorsi formativi che possono essere fruiti tranquillamente dalla vostra schivania, dal vostro computer in qualsiasi ora della giornata. E quindi se in attesa della prossima edizione qualcuna di eh delle aziende che sta seguendo il webinar di oggi vuole comunque avere l'opportunità intanto di avere un percorso di autoformazione su questi temi lo può tranquillamente fare in eh eh questo sito che poi nei nostri progetti confluirà all'interno dello stesso portale extender che a questo punto avrà una sua dimensione sia informativa sui bandi sia eh formativa attraverso questi materiali. Un secondo risultato eh e prodotto dell'iniziativa in gara con noi tender lab è un pademecum operativo sulle gare internazionali eh che è stato stampato che è disponibile nella sua versione anche digitale sempre sul sito ingaraconnoi.it e può essere eh chiaramente eh visionato oltre che eh può essere scaricato dal dal sito e quello contiene tutta una serie di informazioni utili anche un glossario sulla terminologia che si usa nelle gare internazionali che è di perdurante eh utilità e che rappresenta effettivamente in congiunzione alle clip formative un altro tassello importante del percorso formativo che abbiamo messo su questi temi a disposizione dell'impresa. In attesa sempre della seconda edizione eh fra l'iniziativa appunto in arrivo l'ha già preannunciata al sottosegretario uno dei punti di atterraggio della seconda edizione di tender lab aspira ad essere un vero e proprio help desk permanente che permetterà eh eh di poter dare delle informazioni e soprattutto un'assistenza diciamo tecnica nella compilazione di documenti di gara alle imprese che ne faranno richiesta oppure sarà anche la possibile interfaccia per quelle che sono delle richieste di più lunga lena che necessitano una collaborazione diciamo più strutturata potrà anche essere l'interfaccia con degli esperti di eh settore con i quali poi l'impresa potrà stabilire le modalità con le quali essere supportata se ha da preparare qualche documentazione di gara particolarmente impegnativi. Io mi fermo qui queste sono le mie eh coordinate quelle che vedete a schermo concludo qui il mio intervento e eh a questo punto eh do la parola al successivo oratore al dottor eh Paganini per il suo intervento. Grazie. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Avrò un attimo la presentazione. Ecco come vedete oggi parlerò in questi pochi minuti delle banche multiali di sviluppo e con un focus soprattutto sulla banca mondiale che è la istituzione principale eh quando si parla di banche multiali di sviluppo ehm proprio due parole eh su intanto cosa si intende del banche multiali di sviluppo non c'è una definizione unicola quindi molte volte quando si parla di banche di sviluppo ci sono diverse versioni un pochino contrastanti però direi sostanzialmente possiamo dire che sono comunque organismi sovranazionali che tendenzialmente quasi tutte hanno mandato addirittura la povertà e promuovere lo sviluppo economico nel mondo oppure in alcune regioni più specifiche ehm tendenzialmente eh sempre diciamo così per fare un discorso un po' generale sulle banche di sviluppo i meccanismi multilaterali di queste banche sono sostanzialmente tre erogazioni di prestiti a lungo termine quindi sostanzialmente con interessi di mercato prestiti a lunghissime termine con interessi agevolati e invece poi dei crediti di dono che ritrovi che quindi sono molte volte anche semplici legali. Il tutto viene fatto con degli accordi specifici che la banca di sviluppo eh stipula col singolo paese debitore. Eh ma quali sono le banche di sviluppo? Ecco qui ne ho riportate alcune in questa slide quindi vede la banca mondiale che è la principale però vedete una serie di altri nominativi e e poi nel nel questo grafico vedete anche appunto che io riporto in particolare i dettagli di cinque di tra le principali banche di sviluppo dove potrebbe vedere bene è che l'erogazione annuale in termini di finanziamenti ehm vede assolutamente l'ultima proporzione della banca mondiale nel 2018 potete vedere che abbiamo più di 66 eh miliardi di dollari della banca mondiale ehm mentre invece le altre banche di sviluppo forse a te sono 3, 10, 15, 20 miliardi di dollari e non di più. Quindi eh essendo ovviamente la banca mondiale eh eh lucimale. Ci siamo. Ehm di comunque lo è detto che mi parla di questo ehm però prima di questo volevo in questa slide poi vedete quali sono i principi fondamentali che vengono il produzione internazionale che è comune a tutte le banche di sviluppo quindi ehm a qualunque banche di sviluppo potrete rivolgervi tendenzialmente tutte eh si attestano su questi certi principi, dal value for money, economia, identità, efficienza, rasparenza, e uguaglianza di opportunità e trattamento per gli offerenti. Io non vado a un dettaglio dei singoli principi che comunque sono che potete anche trovare nelle slide che poi saranno distribuiti a chi è interessato però mi piace sottolineare il fatto come il value for money sia il criterio principale che ormai guida tutte le banche di sviluppo, a partire dalla banca mondiale proprio che sostanzialmente quindi è un criterio in cui si cerca di realizzare il massimo beneficio per ogni dollaro speso tendenzialmente quindi considerando quindi la valutazione delle offerte non più solo l'elemento costo come spesso era fatto fino a pochi anni fa ma anche l'elemento qualitativo molte volte anche superando il 50% nel peso dell'attribuzione questo è il principio di base a cui si attiene anche la banca mondiale di cui comincerò a parlare adesso ma in una maniera un po' diversa ecco io ho pochi minuti quindi non posso andare troppo in dettaglio però mi preme farvi sapere che quando si parla di un'istituzione come la banca mondiale ci sono opportunità ovviamente offerte da procurement però il tema di oggi è soprattutto il procurement però mi preme anche farvi vedere come ci sono tante altre opportunità che poche aziende italiane conoscono e pochissime sfruttano in particolare sono quindi opportunità di finanziamento per diciamo così commesse minori di cui parlerò e poi anche i finanziamenti diretti erogati da AFC quindi molto velocemente per quanto riguarda comunque la prima opportunità che è però ovviamente più conosciuta quella del procurement intanto è bene sapere che il procurement della banca si divide in operational corporate quindi sostanzialmente l'operation of procurement che sostanzialmente il 95% dei contratti assegnati sono gli appalti per beni, lavori e servizi nell'ambito dei progetti finanziari per la banca c'è poi il corporate procurement che invece il 5% dei contratti assegnati invece riguarda diciamo più l'operatività interna della banca di cui però non ci sono solo semplicemente i vendi di consumo ma ci possono essere anche grosse opportunità di consulenza restando sull'operation of procurement che comunque è il grosso del problema della banca mondiale come vi dicevo il principio fondamentale anche nel caso della banca mondiale è il value for money a cui però si associano altri due principi che viene comunque viene tenere a mente quando si approccia un'istituzione come questa una fit for purpose quindi in ogni caso sappiate che la banca mondiale adotta una strategia di procurement per ogni singolo progetto e quindi voi troverete per ogni singolo progetto un documento specifico in cui la banca per quel determinato paese per quel determinato prodotto per quel determinato progetto identifica le forme di procurement che meglio si sono da utilizzare per quanto riguarda il contratto inoltre è bene anche sapere questo che i governi sono responsabiliti della gestione dei fondi quindi sostanzialmente la maggior parte dei fondi della banca mondiale vengono erogati non direttamente quindi se voi partecipate a un bando della banca mondiale in realtà molte volte partecipate a dei bambi sponsorizzati dai governi e pubblicizzati dai governi in cui però il finanziamento in realtà è erogato dalla banca mondiale e come tale quindi poi senza rinnovare il tuo soco nei tecnicismi comunque come tale voi comunque come primo riferimento quando partecipate a un bando della banca mondiale dovete rivolgirvi intanto al governo poi posso ovviamente se c'è qualche domanda posso poi andare a pulire tutto di questo aspetto ma appunto per dare un pochino di elementi un po' più concreti mi preme intanto dirvi che diciamo i bambini della banca mondiale sono tendenzialmente coprono un po' tutti i settori soprattutto trasporti water sanitation energia ma come vedete comunque lo spettro è piuttosto ampio e anche a livelli diciamo così di regionalizzazione ovviamente il grosso dei bambi sono dove sono i principali del mondo perché come penso tutti sappiate l'obiettivo della banca mondiale è la riduzione della qualità nel mondo e come tale quindi diciamo più del 50% dei progetti della banca mondiale sono in abica subsahariana e in South Asia è molto interessante vedere queste le statistiche che vi farò vedere adesso cioè quali sono i principali paesi aggiori catari se vedete gli ultimi tre anni vedete che ovviamente Cina e India sono i paesi aggiori catari principali per una serie di regioni non ultimo il fatto che anche molti progetti della banca si sviluppano in questi paesi quindi ovviamente c'è un vantaggio chiaro per le aziende locali ma come vedete l'Italia comunque si funziona abbastanza bene perché è il settimo posto e non è male non è male perché qui si parla di mezzo miliardo di dollari in tre anni con una quota del 79% se poi vi faccio vedere la slide successiva vedrete che nei quattro anni precedenti l'Italia era al terzo posto con un 489% del totale del totale e oltre 3 miliardi di dollari giudicati quindi come vedete c'è una differenza molto forte e una gatta che noi stiamo accumulando negli ultimi anni molto forte le motivazioni sono tante non mi soffermo sulle motivazioni però appunto è bene che voi sappiate che quindi c'è molto spazio e quindi sappiate che lo spazio per le aziende italiane è molto grande e per tale vi faccio anche vedere i nomi di alcune delle aziende che in ultimi anni sono giudicati italiane che sono giudicate gare dalla Banca Mondiale e come vedete appunto che sono aziende un po' di tutti i tipi e anche in diversi settori però quello che mi prende anche di è questo ecco io vi cito un esempio di un'azienda italiana che è la Newshead Group di un'azienda piccola perché molta volta uno pensa che quando si avvicinano io non mi avvicino ai bandi delle banche di sviluppo perché sono troppo grandi non mi riguardano eccetera ecco io vi porto un esempio di un'azienda che ho avuto e piacere di riconoscere in qualche modo anche supportare un po' più nel suo processo di avvicinamento alle istituzioni di Banca Mondiale un'azienda che ha un fatturato medio anno di 400 milioni e circa 25 dipendenti quindi sicuramente non si può dire che sia un'azienda particolarmente grande e loro hanno capito però a un certo punto l'importanza di identificare una figura interna che si occupasse esclusivamente di gare d'appalto all'interno dell'azienda diciamo con questa lungimiranza loro dopo un annetto di o meno da quando hanno identificato questa figura hanno cominciato a giudicarsi gare e in particolare sono giudicate una gara della Banca Mondiale per l'installazione e manutenzione di nuovi impianti per il trattamento di ospedalieri in Romania questa gara è la Banca Mondiale quindi ecco il mio messaggio è il mondo delle banche di sviluppo e quindi Banca Mondiale in particolare non è solo per aziende grandi ma anche per aziende medie e piccole come vi dicevo prima però a parte il procurement in questi pochi minuti volevo anche così lanciarvi e lanciare un po' il sasso nello stagno per le altre opportunità che un'istituzione come la Banca Mondiale e non solo la Banca Mondiale offre in particolare vi volevo segnalare che molti contratti della Banca Mondiale sono giudicati senza un dito di gara quindi senza procurement l'importante in questo caso è fondamentale è l'informazione e come vedete io qui ho riportato quello che si è definito il ciclo di progetto ogni progetto di finanziamento internazionale ha una serie di fasi e come vedete nella seconda colonna ho scritto opportunità questo vuol dire che nelle varie fasi dalla fase di pre-progettuali di riempitizzazione del progetto fino alla realizzazione di valutazione ci sono una serie di chiamiamole consulenze di breve e medio termine che tendenzialmente molto spesso sono sotto la storia dei 50.000 dollari e come tale per il regolamento interno della Banca Mondiale non hanno obbligo di gara e anzi vi confermo che la maggior parte di queste non viene assegnata con gara e quindi tantomeno troverete mai un bando di gara relativo a questa opportunità questo ovviamente richiede da parte della singola persona dell'azienda del consulente un forte lavoro di scouting pre-identificato di queste opportunità e diciamo anche quando poi programmeremo la nuova edizione di gara con noi sicuramente dedicherò o dedicheremo una parte della formazione anche a questo per far capire meglio dove poter trovare queste opportunità altrimenti pochissimo utilizzare le aziende italiane o dei consulenti italiani termino il mio intervento almeno mi avvicino diciamo alla parte finale dell'intervento sperando di rimanere nei tempi citandoli anche senza andare in profondità però voglio almeno sempre per avere una panoramia completa dell'opportunità offerta dalla Bacca Mondiale anche citare l'International Finance Corporation quindi in questo caso si parla non più di procurement non si parla più neanche di finanziamenti senza bando di gara si parla invece di finanziamenti diretti alle singole aziende in questo caso quindi l'azienda hanno in questo caso aziende medio-grandi hanno la possibilità di presentare un progetto di sviluppo a dare sì che fa parte del mondo banca mondiale e che fornisce quindi finanziamenti per aiutare le aziende a creare occupazione e tendenzialmente fornire servizi essenziali in più è un'istituzione finanziaria che immobili anche capitale proprio di altre banche quindi fornendo consulenza e lavora soprattutto di interventi con le aziende quindi dimenticare in questo caso il procurement e il procurement che si parla veramente in questo caso di un'azienda che presenta un progetto come vedete il commitment e i fondi che girano anche diciamo in favore di aziende italiane da parte di ESI sono piuttosto rilevanti sono un po' in tutti i settori e anche un po' in tutte le zone geografiche coperte dall'attività della banca mondiale sotto in questa slide vedete che sono riportati i principali aziende principali che hanno il fluido di questa possibilità però oltre a questi nomi che tendenzialmente tutti conosciamo io mi soffermo un attivino invece su questa slide che riguarda invece un'azienda che lavora con ESI che però forse non tutti conoscono che è un'azienda appunto molto piccolina se vogliamo ma che però è diciamo leader nella sua nicchia di mercato in quanto loro producono tappi a pulone in plastica per l'impottigliamento sostanzialmente e hanno due sostanzialmente due marchi internazionali come clienti che però sono la Coca-Cola e l'Aine quindi non voglio fare pubblicità ma insomma avendo questo tipo di nicchia di mercato così importante ESI ha avviato fin dal 2011 un rapporto molto stretto con l'AMSI senza mai ricevere finanziamenti ma diciamo così soprattutto ESI è diventato un po' il consulente di per gli comuni guidandola un po' sull'adduco sulle carri internazionali questo cosa vuol dire che quindi la banca mondiale non solo era da fondi ma potrebbe anche diventare un consulente nelle vostre strategie di approccio ai mercati dei paesi di sviluppo questo ovviamente ecco anche qui non posso ovviamente dedicarmi troppo ai dettagli però ovviamente qui si parla di aziende medio grandi ma appunto ripeto la Collabellicoli non è comunque un'azienda particolarmente grande quindi ecco il messaggio spero che il messaggio sia aggiunto abbastanza chiaramente l'ultima slide riguarda invece è un po' un'introduzione a quello che può dire anche il dottor Capano dopo di me sostanzialmente diciamo ecco avendo esperienza di lunghi anni di rapporti con aziende italiane che si approcciano a istruzioni con la banca mondiale non solo tendenzialmente secondo me dobbiamo partire da tre elementi fondamentali che in qualche modo sono già stati detti ma che mi piace ripetere comunque è veramente fondamentale che le aziende si concentrino su questi elementi per iniziare la strategia di approccio alle banche di sviluppo quindi non solo alla banca mondiale quindi uno che inizia l'informazione quindi l'azienda deve organizzarsi in maniera da poter stabilmente monitorare bambi e altre opportunità di business come ho detto ad esempio la banca mondiale quindi identificando la figura ho anche proprio una struttura interna l'azienda e quindi anche più figure che fanno sostanzialmente solo questo quindi che si occupano delle banche di sviluppo e vi assicuro che è un investimento che vale la pena secondo elemento sul cui mi piace soffermarmi è la comunicazione e quindi è necessario per le aziende curino accuratamente la propria di attenzione aziendale il sito web e soprattutto anche come presentarsi presentarsi diciamo presso queste istituzioni o presso le controparti locali quindi ovviamente questo coinvolge anche un livello inglese adeguato ultimo suggerimento che mi sento di dare prima di passare qua la parola al dottor Cappano è poi anche rafforzare la robotica di networking molte aziende io so che soprattutto quando si parla di finanziamenti comunitari hanno sviluppato una rete di contatti molto stretta con vari interlocutori vari stakeholders a livello europeo ecco sappiate che anche a livello di banca di sviluppo questo è un tipo di atteggiamento di polisi che paga quindi se l'azienda dovrebbe prevedere quindi possibilità di ad esempio potrebbe essere la prima programma a Washington dove ha sede la banca mondiale o comunque nella città dove ha sede la banca a cui si è partito il interesse per quanto riguarda i finanziamenti oppure anche aprire le antene nei paesi in cui si vuole riferire i finanziamenti in maniera di essere costantemente aggiornati su bandi e altre opportunità che potessero venire fuori ecco io spero di essere rimasto nei tempi non mi resta quindi che salutare qui vedete i miei riferimenti quindi chiunque può scrivermi sia c'è qui il nostro sito internet della formazione dell'Ice dove potete trovare tanti spunti per approfondire la vostra formazione sia poi vedete anche la mia mail personale dove potete assolutamente contattarmi per domande più specifiche ovviamente sono qui a disposizione per rispondere alle domande nel resto del webinar grazie bene grazie dottor Paganini per questo excursus molto interessante sul procurement della banca mondiale e su come cercare di trarne profitto e coglierne le opportunità a questo punto tra i relatori vorrei dare la parola al dottor Roberto Carpano che abbiamo già conosciuto nell'iniziativa in gara con noi Tender Lab che è un esperto in tema di finanziamenti internazionali e la parola grazie sì ministro grazie un attimo per il collegamento è collegato eh la sentiamo perfetto e volevo essere sicuro che la mia presentazione si veda sì quindi procedo allora così intanto così grazie il tema di oggi è procurement internazionale difficoltà strategie diciamo quindi parleremo eh essenzialmente di che cosa è un sistema di procurement e quali sono i suoi vantaggi rispetto al tema nazionale e vorrei fare un focus e vorrei fare un focus sul tema scusate mi date conferma che si sente sì sì tutto ok tutto ok perfetto e vorrei appunto poi insistere sul tema difficoltà strategie come ha detto il ministro Nicoletti e Tindra Paganini l'esperienza che vogliamo condividere oggi è un'esperienza che nasce dal campo nel senso che sono stato il coordinatore didattico di Tender Lab eh fase uno e per cui diciamo quello che vorrei condividere è un pochettino quello che abbiamo imparato e quello che abbiamo ascoltato parlando con le imprese e condividendo con loro molto tempo innanzitutto il procurement internazionale rispetto a quello nazionale ha degli aspetti che lo caratterizzano come più efficiente e il fatto di essere efficiente diciamo che è una richiesta dell'agenda universale 2030 un procurement efficiente rientra in quelli che sono gli obiettivi del Sustainable Development Goals con il numero 8 e più che altro ritorna in quello che è il piano Colau l'azione 62 che cosa vuol dire un procurement efficiente diciamo che è un pochettino quello che si è detto così finora che è sintetizzato da questo mantra di Nelson Mandela I never lose or I will win or learn quindi vuol dire che è un sistema che ti permette di imparare di imparare dalle gare perse e quindi ti permette quantomeno di crescere che cosa vuol dire imparare vuol dire che automaticamente quando io partecipo a una gara sia Commissione Europea sia Banca Mondiale o altro ricevo poi a fine gara uno screening un report nel quale capisco quali sono stati i punti deboli e i punti forti rispetto ai miei concorrenti e questo diciamo che come è stato detto dagli altri relatori mi permette di fare tesoro delle mie esperienze passate quindi quali sono i vantaggi del procurement internazionale diciamo che sono essenzialmente il primo è una maggiore trasparenza nella programmazione abbiamo insistito moltissimo che il fattore tempo è il fattore che permette che permette di anticipare l'uscita delle gare e quindi avere maggiore tempo per la preparazione e quello che è il secondo vantaggio è che app che è un mercato più rilevante e quello su cui mi insisto che è governato da poche grammatiche quindi da poche regole rispetto invece a quello che è un mercato nazionale che è più atomizzato ed è guidato da grammatiche diverse quindi che cosa vuol dire vuol dire che se io quando io conosco le procedure Unione Europea Banca Mondiale e altre diciamo che ho accesso a quello che è un mercato che è più rilevante rispetto invece a delle procedure che in ambito nazionale spesso cambiano da regione a regione quali sono le difficoltà delle aziende italiane nel partecipare alle gare internazionali e come abbiamo detto queste sono difficoltà che sono la sintesi di un questionario che abbiamo per esempio che abbiamo realizzato con la precedente esperienza di Tenderlab abbiamo visto che ci sono abbiamo visto che le difficoltà possono essere catalogate in due grandi famiglie quelle reali quindi quelle che corrispondono realmente alle difficoltà che le imprese vivono e invece ci sono delle altre che abbiamo chiamato percepite che sono quelle che fanno parte di quello che è un mondo che non corrisponde alle realtà alla realtà del mondo gare diciamo la prima difficoltà reale è una scarsa conoscenza delle opportunità e la seconda è la difficoltà nel relazionarsi con la stazione appaltante diciamo che sul primo tema quindi strumenti come extendere sono preziosi perché permettono appunto di entrare nel merito dobbiamo però così dire che c'è una retticenza ancora avere un dialogo con questi portali l'esempio che riporto spesso è che nel sito UNGM che è il sito che raggruppa tutte le gare che sono lanciate dal sistema UN solamente il 2% delle aziende italiane ha completato la sua registrazione quindi vuol dire che solamente il 2% riceve in anticipo le informazioni per quanto concerne le gare le informazioni con cui partecipare le informazioni che il ministro Niccoletti diceva come informazioni push per cui è ovvio che se non completo la mia schermata avrò sempre più difficoltà seconda difficoltà reale è l'identificazione dei partner che servono sia per creare un consorzio e per partecipare a gare diciamo che anche qui ci sono alcuni strumenti che sintetizzeremo proprio e poi come ha detto il dottor Paganini il 28% diciamo che ha identificato il fatto che alcune aziende non hanno un ufficio gara competente per le gare internazionali o meglio ce l'hanno con delle competenze per le gare nazionali che sono delle competenze sicuramente utili sicuramente di base che potrebbero essere il punto di partenza per poi costruire quelle competenze che sono invece richieste da un ufficio gara di carattere internazionale nelle difficoltà percepite che sono quelle che secondo noi non corrispondono alla realtà dei fatti abbiamo due punti importanti uno che ci sono molte aziende dicono che le gare internazionali sono caratterizzati da delle metodologie stringenti e da una complessità amministrativa io vorrei mettere sulla bilancia la complessità di una gara nazionale con una complessità di una gara internazionale penso che questa difficoltà emerge per una conoscenza che deve essere sviluppata ancora su questo tema un'altra difficoltà percepita riguarda un fatturato aziendale insufficiente rispetto ai requisiti vorrei citare due cifre nel senso che la prima azienda italiana nel ranking banca mondiale è Astaldi è il gruppo Astaldi che ha 3 miliardi di fatturato il nostro testimonial di oggi AIRES ha un fatturato di 400 mila euro quindi vuol dire che il fattore fatturato aziendale come vincolo diciamo che corrisponde in parte nel senso che ci sono alcune gare che richiedono un fatturato specifico ai temi quindi vuol dire che la risposta per superare questi due punti è proprio il fatto di scegliere le gare nelle quali io ho maggiori capacità di vincita e le gare dove ho un fatturato che corrisponde al tema della gara vediamo quali sono le strategie per affrontare le difficoltà che abbiamo evidenziato prima su questa AIRES ci sono due elementi importanti uno è una strategia e secondo è una condizio sine qua non per mettere in piedi la strategia Fred Allen è stato un comico americano che a me piace molto perché il suo motto è molto chiaro qui dice cambiare è difficile ma non cambiare è fatale quindi se io mi voglio affrontare quello che è il tema delle gare internazionali diciamo che il primo elemento è essere consapevoli che per entrare in una terra incognita è necessario cambiare cambiare che cosa vuol dire innanzitutto vuol dire uno vuol dire la convinzione del top manager del top management a modificare l'organizzazione aziendale e a fare degli investimenti che sono essenzialmente investimenti lungo il solco lungo i tre solchi che ha citato prima tindaro che sono informazione formazione networking il fatto che deve avere un ufficio gare che sia responsabile per questi termini quindi quali sono le sette mosse per una strategia diciamo che la prima è sviluppare una strategia aziendale in termini di capire qual è il mio vantaggio competitivo e capire quali sono le gare nelle quali esprimo il meglio nel senso che vediamo invece spesso quelle che sono aziende che hanno un approccio onnivoro per cui si occupano di formazione e partecipano anche a gare per organizzare per l'organizzazione di congressi vediamo ditte per esempio che si occupano di draghe marine e che partecipano anche a gare in quelli che non sono settori che fanno riferimento alle loro capacità e ai loro contesti quindi la prima mossa è capire bene quali sono i settori nei quali io come azienda ho un plus quali sono i miei paesi target quindi quali sono quei paesi nei quali ho contatti e nei quali ho contatti locali e stanno anche a una distanza ragionevole per cui le possono essere raggiunti con un occhio ai costi e quelle stazioni appaltanti per le quali con le quali diciamo che ho incominciato a investire rapporti o quantomeno ho degli agenti locali che mi possono aiutare seconda mossa è attivare un ufficio gare internazionali questo qui diciamo è è proprio l'ossatura portante e il terzo elemento è utilizzare il sistema paese il sistema paese per le gare internazionali è una fonte di intelligence indispensabile è composto per quanto concerne il maeci dalle 125 ambasciate e per quanto concerne lì c'è dai dai 79 uffici ed è quello che permette di avere contatti sia con le stazioni appaltanti locali che con i ministeri che come è stato detto sono quelli che lanciano le gare quarto punto per la strategia è utilizzare le referenze acquisite anche tramite gare nazionali nel senso che ci sono spesso alcune aziende che dicono ma noi non abbiamo le referenze nel settore sismico in Butani anche lì bisogna vedere se la gara richiede solamente referenze nel settore sismico o se invece richiede le referenze nel settore sismico o nel paese in questo caso sarà necessario evidentemente fare delle partner e se io sono piccolo e mi approccio adesso in questo mondo delle gare diciamo che il primo consiglio che noi diamo è incominciare come partner piuttosto che come capofila di modo che incomincio ad imparare il sistema il sesto punto è quello di analizzare i documenti di programmazione disponibili nei siti è un fil rouge che è stato ripetuto varie varie volte oggi ma il fattore tempo è un fattore chiave per vincere nel senso che la partecipazione e la vincita di queste gare inizia non quando la gara viene pubblicata ma quando viene programmata questo vuol dire che ho tempo per leggere i documenti per capire come funziona il sistema paese per cercare partner e altri il settimo punto ne abbiamo già detto è completate il sistema di tender alert nei siti perché se non lo completate siete sempre voi che dovete andare a cercare la gara se invece avete quello che è un sistema completo vuol dire che è il sistema che vi invia gli alert quando la gara viene lanciata grazie per il tempo spero di essere rimasto nei tempi richiesti questa è la mia mail per eventuali richieste e domande grazie a tutti grazie dottor carpano un intervento veramente di accompagnamento con tante riflessioni e pillole di saggezza utili oltre che alcuni mottiche di cui tutti credo faremo tesoro al di là delle gare internazionali a questo punto io ricordo sempre che chi volesse porre delle domande c'è l'indirizzo webinar punto formazione chiocciolaice punto it che può essere utilizzato e adesso darei la parola all'ultimo dei nostri oratori alla testimonianza aziendale che credo che sia una testimonianza molto molto bella perché è una storia molto particolare che ci ha colpito quando l'abbiamo sentita per la prima volta nella sessione di Napoli dell'iniziativa in gara con noi Tender Lab è molto bella anche per i paesi un po' fuori mano in cui si tipana ma anche perché noi nell'immaginario collettivo associamo sempre l'idea dei bandi di gare internazionali della Banca Mondiale piuttosto che di altri altre banche di sviluppo a grandissimi progetti a progetti infrastrutturali a dighe elettrificazioni costruzione di strade di ferrovie eccetera ma c'è invece tutto un segmento che va a gara bandito da queste entità che invece riguarda anche forniture di beni o forniture di servizi intellettuali e che può avere anche una dimensione molto più apportata di aziende che non sono i campioni nazionali ma che sono aziende medie qualche volta anche aziende più piccole ma che hanno un'expertise specifica e riescono soprattutto a trovare la nicchia nella quale inserirsi e una volta inseriti poterà anche crescere e continuare ad essere presenti A lei la parola Ingegner Leizio Sì buonasera grazie Ministro per le parole e grazie a Dice per l'invito credo che qualcuno abbia già letto una mia breve biografia perché l'ho passata agli uffici Dice ma comunque in estrema sintesi la mia attività riguarda da circa vent'anni da subito dopo la laurea il settore dell'ingegneria in particolare nel settore specifico della prevenzione del dischio sismico e dal 2008 ho fondato insieme ai soci ingegneri Gennaro Di Laureo Pasquale Pisce la società Aires Ingegneria porto una testimonianza di una piccola realtà prima il dottor Paganini differendosi ad una realtà di 4,5 milioni la definita piccola noi siamo una società di 400 mila euro quindi siamo forse meno ma che si è affacciata quindi sui mercati internazionali da qualche anno in particolare Lice allora Lice in accordo in congiunzione con l'OICE che è la primaria che è l'associazione nazionale di riferimento per la categoria delle società di ingegneria dell'architettura fece questo seminario o questo corso di formazione barra informazione e tra l'altro proprio il dottor Tito Paganini era tra diciamo gli oratori quindi a seguito di questa di questo corso ci siamo un po' appassionati a questo a questo discorso e abbiamo un po' iniziato a studiare i documenti ce ne sono davvero tanti soprattutto la banca mondiale ha ultimamente pure ha fatto dei documenti anche in italiano abbiamo visto il padre Mecum che prima ha citato lo stesso ministro Nicoletti quindi diciamo che il materiale ce n'è quindi studiando dopo poi pochi mesi mi ricordo era aprile quando abbiamo partecipato al seminario a giugno maggio c'è stata una reoi nel nostro settore specifico che riguardava la prevenzione degli schiosismi nel Bhutan un paese che diciamo era ai primi passi in questo settore e quindi abbiamo messo insieme una reoi che poi diciamo in maniera molto veloce insomma può essere preparata a vari livelli può essere una semplice presentazione una brochure delle lettere diciamo di referenza e quindi diciamo abbiamo spedito e con molta sorpresa poi siamo stati invitati a quella che era la successiva fase che era la fase di LFP request for proposal reoi request for expression of interest per chi non lo sapesse e quindi praticamente poi è arrivato questo questo bel pacco perché poi insomma si trattava di un bel po' di documenti da studiare e quant'altro e lì diciamo abbiamo poi avuto il supporto del diciamo sia della nostra associazione di categoria con l'ufficio internazionalizzazione ma devo dire anche con l'apparato diciamo nostro di supporto infatti il dottor Paganini a quell'epoca era credo non so qual è la definizione esatta ma era il nostro referente presso la banca mondiale io ricordo che l'avrò infortunato anche un paio di volte trovando ovviamente la massima disponibilità all'epoca quindi diciamo prepariamo questa RFP che poi diciamo significa mettere su una metodologia su come uno vuole risolvere nell'ambito degli esercizi professionali certe problematiche e quindi diciamo la studiamo e con molta sorpresa ci passiamo primi anche davanti a imprese diciamo che nel nostro ambito come in ogni ambito possono essere delle icone mi riferisco ad ARUP e come eccetera società da 10.000 dipendenti insomma noi siamo circa 10 attenti fatturati già l'ho citato e quant'altro e quindi diciamo questa è stata la prima esperienza positiva tecnicamente ci siamo classificati secondi ma poi con l'offerta economica siamo arrivati prima ma ripeto comunque davanti a società molto brasonate che forse non hanno dalla loro un'esperienza specifica che invece ognuno di noi può esprimere nel proprio settore e quindi poi abbiamo proseguito su questa strada quindi presentando diverse teoi essendo invitati e quindi presentando diverse HFP e vincendo poi diverse gare cito paesi come le Filippine in cui ci siamo accogliati due gare poi abbiamo lavorato in Kirchistan piccole cose in Pakistan in India e poi nascono anche delle collaborazioni perché in un momento in cui si inizia appunto ad essere sciolti stati a vincere si entra comunque in dei meccanismi per cui anche altre imprese estere anche più grande diciamo sicuramente più grande di noi si sono poi rivolte a noi per fare gruppo qualche società della Turchia addirittura è venuto qui da noi per insomma fare delle partnership adesso abbiamo delle delle regole diciamo in Turchia di cui attenderemo l'esito diciamo se posso citare brevemente quali possono essere le proie contro di questa esperienza di contro non ci sono particolari cose negative svantaggi non ne vedo bisogna sicuramente organizzarsi e strutturarsi ma è studiare come diceva qualcuno tutte le cose sono difficili prima di diventare facile per questo questo per dire che insomma come in ogni cosa ci vuole un po' di impegno per entrare nell'argomento i vantaggi posso dire che ce ne sono diversi sicuramente si allarga la propria visione professionale commerciale e culturale a livello professionale quindi per chi produce servizi ma anche per chi produce beni con tutte le eccellenze italiane che noi abbiamo nasce proprio un orgoglio nazionale quando si va fuori all'estero che molte volte in Italia invece viene subito quindi anche se appunto a volte uno fa un lavoro eccellente però diciamo va insorbito invece qui si nota scatta insomma un po' di gratificazione da questo punto di vista e anche una gratificazione economica in alcuni per un anno diciamo abbiamo coperto con l'estero circa il 50% del fatturato e poi un'altra cosa che mi piace ripetere è appunto il pagamento è uno da per scontato che quando insomma lavora deve essere pagato purtroppo nel nostro sistema nazionale ci sono dei meccanismi che si inceppano mentre invece la cosa positiva è che in tutte le nostre esperienze noi siamo stati pagati nel giro insomma veramente di pochissimo tempo a volte non facevamo in tempo a tornare dalla missione estera che già trovavamo insomma in politico effettuato insomma è una cosa che comunque è importante credo per concludere se posso dare diciamo nel mio piccolo sempre dei consigli oltre al fatto che sottoscriverei tutto ciò tutti i consigli che sono stati dati sia dal dottor Paganini che dal dottor Carpano quindi diciamo utilissimi eccetera ma vado comunque a ripetermi e diciamo i consigli sono sicuramente seguire un'attività di associazionismo e network quindi mi riferisco a gruppi a vedi o anche ad associazioni di categorie come è stato nel nostro nel nostro caso bisogna sviluppare una strategia aziendale per capire su quali competenze skills o settori diciamo andare a concentrarsi e poi bisogna sicuramente come diceva il dottor Carpano allocare un po' di risorse in business intelligence quindi studiare un po' tutti quei documenti che sono sicuramente diversi ma comunque molto importanti come il general procurement notice i pdi venivano anche citati insomma in vari slide dove uno inizia a prepararsi per quelle che sono poi le tender che arriveranno perché poi il tempo per preparare queste tender è davvero poco si parla di 15 giorni massimo un mese però nel momento in cui uno ha la documentazione preparata poi ci vuole poco e in ultimo diciamo bisogna cercare di conoscere il contesto locale perché questo è difficile comunque per piccole realtà perché richiede uno sforzo di risorse per eventualmente andare sul posto eccetera ma conoscendo il contesto locale anche avvalendosi degli uffici ISCE che stanno sul posto a volte si evitano piccole piccole scottature ho poi se mi posso permettere qui ho un un libro questo è il libro del del dottor Paganini non ci siamo messi d'accordo il dottor Paganini non ha bisogno di pubblicità non me ne vogliono gli altri relatori solo che anche il dottor Carpano ha scritto altri interventi libri ma questo qui essendo proprio calato sulla Banca Mondiale io l'ho trovato molto molto interessante proprio per dei consigli molto molto pratici quindi credo di aver finito se qualcuno insomma vuole anche raggiungere sono a disposizione sono presenti sui social o come società di ingegneria o come appunto persona e adesso a disposizione per eventuali chiarimenti grazie grazie a tutto grazie mille ingegnerla Ezza sempre prezioso sentire la voce delle imprese anche perché poi è la voce delle esperienze reali che contano e parlano molto più che ragionamenti teorici e quindi l'idea che qualcuno ce l'abbia fatta e ce l'abbia fatta in un certo modo può essere di ispirazione per altri che ci stanno provando e che sanno che attraverso un'applicazione sistematica e un impegno costante poi i risultati possono arrivare e una volta arrivati i risultati possono anche aprire delle porte verso ulteriori occasioni profili passiamo ora alla parte di Q&A abbiamo siamo andati un po' lunghi e quindi abbiamo non moltissimi minuti io raccomanderei tutti di essere telegrafici nelle risposte così da cercare perlomeno di poter rispondere ad alcune domande la prima è se le gare internazionali riguardino anche il settore food su questo io ricordo che non ci sono solo le banche di sviluppo ma ci sono anche per esempio le agenzie delle Nazioni Unite una delle agenzie delle Nazioni Unite è il World Food Program che bandisce effettivamente tutta una serie di gare che riguardano per esempio forniture alimentari do però anche la parola al dottor Carpano se per caso ho qualche cosa da integrare su questo tema sì certo grazie Ministro diciamo che il food è un settore prioritario per quanto c'è nelle gare di forniture ricordo che a Brindisi c'è la sede regionale per tutto il Mediterraneo delle UNHCR che è l'Agenzia Nazioni Unite per i Rifugiati che lancia regolarmente gare per gli approvvigionamenti alimentari per cui dato che oltre alle gare che sono lanciate online diciamo che il fattore vicinanza con la stazione appaltante è un elemento importante andare a Brindisi e prendere contatti con i funzionari dopo che sono stati fatti passi formali è una regola che è necessaria per chi vuole operare nel settore alimentare perfetto una seconda domanda verte sul portale extender e ci domandano se fornisce anche un servizio di consulenza per la partecipazione alle gare su questa rispondo io brevissimamente ho già segnalato che il portale extender al momento offre bandi ed early warnings includeremo anche i materiali di natura formativa del progetto in gara con noi però al momento non fornisce un sistema diciamo di consulenza personalizzata ma è una delle idee che abbiamo e che vorremmo poi realizzare come portato della fase 2 dell'iniziativa una terza domanda come può una PMI italiana aumentare la possibilità di ricevere finanziamenti dalla Banca Mondiale su questo darei la parola al dottor Paganini per una veloce risposta si molto brevemente anche che comunque diciamo si ripete un pochino quello che già abbiamo detto la chiave è l'informazione relativamente la Banca Mondiale sottolinea solo una cosa è l'istituzione tra tutte le banche di sviluppo più trasparente di tutte nel senso che sul sito c'è veramente tutto ma quando dico tutto non solo i bandi di gara la strategia di produzione e quant'altro ma anche tutte le strategie che la banca attuerà nei singoli paesi nei prossimi 5 anni questo vuol dire che se io sono un'azienda e ho interesse ad esempio per un paese in particolare posso benissimo sapere da più a 5 anni che tipo di progetti che tipo di attività stanno portate avanti la Banca Mondiale in quel paese e ovviamente quindi che tipo di gare ne usciranno fuori e quindi l'informazione è fondamentale e gioco a ripetere il messaggio che già stavo dato strutturare l'ufficio cario diciamo comunque la propria sezione che si occupa di bandi internazionali in maniera adeguata grazie un'altra domanda riguarda invece se il rischio paese sia un elemento importante per i tendere come è possibile reperire informazioni puntuali su questo aspetto su questo io intanto direi che una delle cose importanti dei bandi con le banche di sviluppo è che diciamo la fonte di finanziamento è certa e quindi questo è certamente diciamo un vantaggio rispetto a bandi che possono essere diciamo emessi da soggetti anche statuali che magari però non hanno la solidità finanziaria di una banca di sviluppo sul rischio paese ricordo che la nostra agenzia per l'assicurazione sul credito export la SACE nel suo sito ha una serie di schede sui vari paesi che riportano tra l'altro anche l'indicazione di rischiosità anche sulla base di quanto viene definito in sede OXE consensus da tutte le varie ECAS cioè da tutte le varie agenzie che assicurano il credito export non so se il dottor Carpano ha qualche elemento ulteriore su questo della rischiosità paese in relazione ai tender di passere la parola beh sì grazie ministro diciamo che se io opero in un paese a rischio e diciamo che i tre paesi top a rischio secondo le Nazioni Unite sono Zimbabwe Chad e Congo Kinshasa è indispensabile che io abbia un intelligence locale che mi faccia capire quanto la mia gara possa essere realizzabile o meno diciamo che sul rischio paese dobbiamo capire il rischio paese quando scelgo la gara quindi è una valutazione interna legata alla bontà dei miei contatti nel paese o il rischio paese invece in fase esecutiva nel senso che questo rischio può cambiare col tempo per esempio abbiamo recentemente partecipato ad una gara in Turchia è stata è stata vinta poi nel dopo subito dopo che abbiamo firmato contratto è arrivato il covid per cui diciamo che si è bloccato tutto per cui bisogna un po' capire se il rischio paese è un rischio che è geopolitico o invece è un rischio che è legato a quelle che sono variabili esterne io ho visto che ci stiamo approssimando all'ora della fine del seminario una domanda che ci è pervenuta riguarda l'aspetto linguistico ci si domanda se è sufficiente parlare l'inglese per partecipare a bandi internazionali ovvero se sia necessario anche conoscere la lingua del paese in cui l'opera che viene bandita deve essere realizzata anche su questo darei la parola al dottor Carpano sì ministro grazie diciamo che i bandi di gara nella fase redazionale sono scritti o in inglese o in francese o in spagnolo la lingua locale è indispensabile conoscere nella fase esecutiva nel senso che quando vado in Bhutan per esempio è difficile che tutti quanti parlino l'inglese per cui diciamo nel mio team è importante che ci abbia qualcuno che parli anche la lingua locale non solo per un'interazione tecnica ma anche per respirare la cultura del paese forse se vuole intervenire anche l'ingegner Laezza visto che è stato chiamato in causa il Bhutan e so che poi loro hanno anche scritto una guida per il governo bhutanese di prevenzione sismica magari ci racconta com'è andata sì diciamo che come anche accennavo precedentemente oltre alla lingua che è fondamentale per portare a termine e a compimento quelle che sono le mansioni che vengono affidate infatti non tutti parlavano l'inglese ma siccome abbiamo dovuto per esempio istruire muratori su come fare certe cose c'era poi al nostro nel nostro interno un ingegnere che appunto parlasse anche la lingua locale giusto un accenno sul fatto del contesto prima veniva citato il rischio legato al contesto diciamo che l'affidabilità sul tipo di gara è massima ma come accennavo bisogna scegliersi bene i partner locali perché a noi è successo di scegliere un partner locale solo conosciuto attraverso internet quando abbiamo avuto l'incarico siamo andati sul posto era una scatola vuota e quindi praticamente abbiamo dovuto poi mettere in pratica tutta una serie di azioni per risolvere questo problema quindi la conoscenza del partner locale quindi se parliamo di rischio paese in questo senso è fondamentale e in qualche modo bisogna o tramite passaparola o andare sul posto per conoscersi bene adesso un'ultimissima domanda così poi chiudiamo quali sono i primissimi passi da compiere per un'azienda di piccole dimensioni che si voglia affacciare a questo mondo ma che non abbia mai partecipato ad un tender cedo la parola per chiudere al dottor beh grazie lo abbiamo detto nel senso il primo passo è allocare risorse per un embrione di ufficio gare internazionale quindi così qualcuno o qualcuna che parli inglese che conosca il mondo dei siti che entri in questi siti che identifichi le gare alle quale partecipare in prima in prima battuta come partner e non come capofilo grazie perfetto allora chiudiamo qui perché abbiamo superato l'orario che ci eravamo dato ci scusiamo se non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande ma quelle a cui non abbiamo potuto rispondere poi verrà data una risposta via email e in ogni caso restiamo a disposizione per assistervi in una maniera individuale e l'ufficio dei servizi formativi dell'ICE agenzia è direttamente a vostra disposizione potete scrivere alla stessa mail che avevo dato precedentemente per le domande cioè webinar.formazione chiocciola ice.it un ultimo elemento vi ricordo a tutti che al termine della sessione verrà anche inviato ai partecipanti un form di customer satisfaction molto semplice da compilare ma che ci aiuta a migliorare nell'erogazione di questi servizi e a mettere a punto ad affinare questi webinar in maniera che siano sempre più utili per le imprese ringrazio di nuovo tutti a cominciare dai partecipanti dagli oratori e vi invito a tenere sempre gli occhi aperti sul ripartire con ICE perché vi forniremo altre occasioni di formazione su varie altre tematiche abbiamo in mente anche dei webinar con le regioni sui temi dell'export che partiranno già all'inizio di settembre quindi ci saranno altre occasioni formative ed informative e quindi come si dice stay tuned grazie a tutti per la partecipazione e buona serata grazie a tutti